Buongiorno, buonasera, grazie a Giulia, grazie a Valerio per l'invito. Il fuoco oggi appunto è la Madonna del Fuoco, fuoco che arde, fuoco che non arde, se non ci sarebbe ancora la Madonna del Fuoco, quindi il fuoco non è detto che sia una cosa sola, come dicevano giustamente prima. In genere si associa il fuoco alla passione, il fuoco della passione. Valerio ricordava Forlì, città con l'accento, ovviamente a Forlì non ci poteva essere la Madonna della Camomilla o la Madonna del Melo, ma c'è la Madonna del Fuoco, perché è gente, i romagnoli in generale, ma i forlivesi abbastanza appassionati. C'era un grande poeta del passato che diceva che i romagnoli hanno questa forte passione per cui anche se devono difendere una cosa da niente, la difendono con una grande forza, un grande entusiasmo. Ecco, la passione in genere viene associata all'idea del fuoco, io non so, vorrei fare come una specie di sondaggio, non so se si può fare durante i TED, ma chi di voi in questo momento ha una passione, sente di avere una passione forte? Sulle mani. Siamo al 96%, quindi direi che... Ecco, perché la passione è qualcosa che brucia, qualcosa a volte che fa anche bruciare energie, che fa bruciare a volte anche risorse, uno si rovina a volte per certe passioni. Allora, io oggi vorrei fermarmi un po' sull'importanza della passione, però anche il fatto che bisogna stare attenti e non scambiare due cose che si assomigliano ma non sono la stessa cosa. Perché una cosa è l'entusiasmo e una cosa è la passione. Chi sa un po' di greco, sa che la parola entusiasmo vuol dire che a un certo punto vieni preso come da un Dio. Ti entra un Dio dentro e ti entusiasma, cioè ti rende per poco tempo in genere, l'entusiasmo dura poco, per poco tempo infervorato per qualcosa. È il motivo per cui a volte siamo presi da quelle che pensiamo essere grandi passioni che però durano poco. Durano a volte pochi minuti, pochi giorni, poco tempo. E dice cos'è una passione che si è spenta? No, bisogna stare attenti a non confondere l'entusiasmo con la passione. L'entusiasmo è appunto un Dio che ti prende, che ti afferra, come dicono i greci, che ti entra dentro e per breve tempo ti accende per qualcosa. E' bello avere degli entusiasmi, è importante avere degli entusiasmi, ma è anche importante non confondere gli entusiasmi con la passione. Perché la passione invece è un altro tipo di fuoco. E' un fuoco, diciamo così, che ha una durata più lunga. La vera traduzione della parola passione, che come molti sanno viene dal latino, pazior, significa, diciamo così, ciò per cui sei disposto a soffrire. La passione vera è ciò per cui sei disposto a soffrire. Tante ore che la parola passione indica anche la passione della Via Crucis, di Gesù Cristo. La passione non è quell'entusiasmo che ti prende e a volte, lasciandoti anche un po' interdetto, ti abbandona. La passione è quella cosa che nel tempo fa vedere ciò per cui sei disposto a soffrire. Le vere passioni, infatti, sono non molte nella vita e sono quelle a cui ti dedichi veramente, a cui sei disposto a sacrificare tempo, energie, a volte anche a sacrificare la faccia, a perdere la faccia per certe passioni, perché capisci che vale la pena soffrire per ciò che ha suscitato questa passione. Questo è il motivo per cui la passione vera è il traino della vita, non l'entusiasmo. L'entusiasmo molto spesso ci lascia uguali a prima. Le passioni invece possono cambiare la vita, possono portarti su strade differenti, possono farti cambiare, possono farti fare dei progetti che non immaginavi. Queste sono le passioni. Gli entusiasmi invece in genere sono dei fuochi, brevi, anche interessanti per certi aspetti, ma che ti lasciano in genere come prima. Bisogna distinguere tra le due cose, non sempre è facile, ma credo che un segno che ci faccia capire la differenza tra passione e entusiasmo, cioè tra il fuoco che veramente crea, che veramente crea vita, che è la passione, e l'entusiasmo invece che in genere è passeggero, uno dei segni che ci fa distinguere tra queste due cose è appunto che la passione ti porta a soffrire per qualcosa. In genere quando si dice anche tra innamorati tu sei la mia passione, si dice, o anche con i figli, tu sei la mia passione. Con quella parola si dice qualcosa che sai che ti piace molto, diciamo così, ma anche qualcosa a cui stai dando molto, qualcosa che ti sta chiedendo molto. Tu sei la mia passione in genere non si dice a un rapporto da poco, si dice a un rapporto che è diventato importante, un rapporto che è significativo e che non solo ti entusiasma, ma molto spesso ti chiede anche qualcosa, ti chiede parecchio anche. Per questo sei la mia passione è un'espressione bellissima, io spero che tutti voi abbiate molte persone a cui dire tu sei la mia passione. Questo indica una vita generosa. Infatti da cosa si vede, e può sembrare un paradosso, ma se siamo qui anche per dirci delle idee un po' paradossali, idee non solite, da cosa si vede che uno ha delle passioni? Dal fatto che è sempre agitato? Dal fatto che è sempre su di giri? No, si vede dal fatto che è paziente. Le vere passioni si dimostrano innanzitutto come pazienza. E la stessa radice, passior, passione, pazienza. C'è il fatto che sono le cose a cui dedichi pazienza, le cose che meritano la tua passione, le cose che veramente meritano la tua passione. Allora, un uomo veramente appassionato, e può sembrare strano, è invece un uomo paziente. Un uomo che ha grande passione è un uomo di grande pazienza. È un uomo di grande capacità di pazienza con le cose che meritano la sua passione. Chi ha dei figli tra voi sa benissimo cosa intendo, perché non c'è cosa che ti strappa la pazienza con i figli, ma non finisce mai la pazienza con i figli, ma anche con le persone che si amano, con gli amici, con le persone che si amano. Ecco, questo può sembrare strano, perché in genere noi mettiamo in correlazione la passione, invece una sorta di fibrillazione continua, una specie di emozione continua su di giri. No, cioè l'uomo che è sempre su di giri è uno che si tiene su di giri perché sennò non si sente vivo. L'uomo di passione, invece, vive di grandi pazienze, di grandi passioni profonde, di grandi sofferenze anche, di grandi dedizioni. Perché tra i fuochi, nella notte un po' che è la vita, tra i fuochi bisogna distinguere, come quando i naviganti sono nel mare oscuro. si possono vedere dei riflessi di specchietti, si possono vedere di vetri, si possono vedere di piccoli fuochi, oppure ogni tanto devi capire quali sono i fuochi che indicano veramente la strada. Una volta, quando non c'erano gli strumenti elettronici, i radar, i marinai si orientavano con i fuochi delle stelle, i fuochi remoti delle stelle o i fuochi che qualcuno accendeva sulle isole o all'imbocco dei porti. Nella notte un po' che è la vita, bisogna distinguere il fuoco che guida. Se è la passione, se è l'entusiasmo, se è la brevità di certi entusiasmi passeggeri. Questo è il compito dell'esistenza, è il compito del viaggio. Per fortuna allora in Romagna c'è la passione, c'è la Madonna del fuoco che forse ci può indicare qualche fuoco da seguire. E io per finire voglio lasciarvi con una poesia, visto che è l'unica cosa che so fare, scrivere poesie. È una poesia che è dedicata a dei piccoli fuochi che ogni tanto si vedono. Io ho dei figli, quel giorno ero in moto, e portavo mio figlio verso la casa dove abitano sui boschi, sopra Bologna. Ed è successa questa cosa. Perché i fuochi, il grande fuoco della vita, il grande fuoco della passione, a volte si vede anche in fuochi piccoli. Se stai attento, anche in piccoli fuochi. E poi voltando in moto sulla curva che mette sui crinali, il figlio più piccolo, attaccato alle spalle, viene il buio della valle. Un istante di respiro interrotto e inizia il miracolo minimo, incantato. Le lucciole sfiorano i cespugli, i lunghi rami oscuri, ridono gli occhi e tace il puma del mio cuore. Non avrò ricchezze da lasciarti, ragazzino che porterà il mio nome e quello di mio padre. Ma quando c'è una curva da fare e non sai cosa ti può aspettare, prepara gli occhi, prepara il cuore. Il mondo non è solo quel che più forte appare, più forte grida, più a fondo tira. Stai attaccato bene alle mie spalle, poi quando la mia figura sarà un albero nella notte, guida tu. Al cielo attacca la tua fronte, offri gioia, ira, pianto. Non c'è curva, senza sorpresa da scoprire. E ora che le mie stanno finendo, è bello trovarsi a un nuovo inizio, così dolce e tremendo, nelle notti, mentre tu sorridi, le lucce le ammirando. Applausi Grazie. 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 Grazie.